Ciao e benvenuto nel mio canale. Oggi parleremo di uno dei temi più affascinanti del mondo della tecnologia, le intelligenze artificiali. Le intelligenze artificiali sono sempre più presenti nella nostra vita quotidiana, dalle applicazioni di riconoscimento facciale ai sistemi di assistenza vocale come Siri e Alexa, passando per l'istruzione e l'arte. Ma cosa sono esattamente le intelligenze artificiali? In parole semplici, le intelligenze artificiali sono programmi o dispositivi che imitano l'intelligenza umana, sono in grado di apprendere, ragionare e risolvere problemi in modo autonomo e di adattarsi alla situazione in cui vengono utilizzati. Se sei interessato all'intelligenza artificiali o sei curioso di conoscere di più su questa tecnologia, assicurati di lasciare un like e iscriverti al canale per non perderti i miei prossimi video. Parlando di intelligenza artificiali, ci sono diverse tipologie di algoritmi che si possono incontrare su internet. Uno dei più comuni è l'apprendimento automatico, un tipo di intelligenza artificiale che utilizza algoritmi di apprendimento per identificare modelli nei dati e migliorare le sue prestazioni nel tempo. Un'altra tecnologia di intelligenza artificiale è la computer vision, che permette ai computer di analizzare e comprendere le immagini, riconoscere oggetti, persone e luoghi e persino di identificare emozioni sul volto di persone. Inoltre troviamo la NLP, che consiste ai computer di comprendere e interpretare il linguaggio naturale, rendendo possibile l'elaborazione di grandi quantità di testo e la generazione di risposte automatiche. In sintesi, le intelligenze artificiali sono diverse e si possono trovare in vari contesti su internet. Uno di questi è ChatGPT. ChatGPT è un modello di linguaggio basato sulla tecnologia GPT sviluppato da OpenAI. Questo modello di intelligenza artificiale è stato addestrato su vasta gamma di dati di testo che li consente di comprendere e generare linguaggio naturale in modo molto simile a quell'umano. È un assistente virtuale che può rispondere a domande, fornire informazioni e generare convertazioni naturali in modo simile a come lo farebbe un essere umano. Ciò significa che può essere utilizzato in vasta gamma di scopi, come l'assistenza clienti, l'elaborazione di ordini e persino la generazione di contenuti. Tuttavia, è importante notare che, nonostante l'elevata accuratezza di ChatGPT nella generazione di linguaggio naturale, non è ancora in grado di comprendere il contesto e il significato di parole come lo farebbe un essere umano. Pertanto, è importante considerare le sue risposte in relazione al contesto in cui vengono fornite. In generale, ChatGPT rappresenta una potente tecnologia di intelligenza artificiale che può essere utilizzata per migliorare l'esperienza utente in molti contesti. Prima di concludere, ricordo che le intelligenze artificiali rappresentano una tecnologia molto importante per il futuro della nostra società. Grazie ai loro progressi, continui, avremo sempre più possibilità di migliorare la nostra vita quotidiana. Se ti è piaciuto questo video e sei interessato ad approfondire l'argomento, ti invito a iscriverti al canale e lasciare un like. Grazie per aver seguito questo video fino alla fine. Ci si vede alla prossima. Nessuno avrebbe mai detto che questo video è stato generato, è stato scritto da un'intelligenza artificiale. Chi l'avrebbe mai detto? E voi, l'avete capito? Scrivete nei commenti. Ciao! 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 Ciao!